Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguri. È indubbiamente un periodo caratterizzato da tanti terremoti. Nell'estate 2024 abbiamo avuto tantissimi eventi sismici molto significativi e molto preoccupanti in tutto il mondo, ma anche in Italia, soprattutto la situazione relativa a ciò che sta accadendo nei campi flegrei, è alquanto preoccupante. L'ultimo terremoto in ordine cronologico è stato registrato il 30 agosto nella zona dei campi flegrei un sisma di magnitudo 3,7 con una profondità di 2 chilometri. Si è verificato alle ore 21 e 23. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e rientrava in uno sciame sismico che è stato registrato in aria flegrea. La preoccupazione è tanta. Sappiamo che il bradisismo nei campi flegrei impedisce alla popolazione di dormire. Sonni tranquilli. Iscrivetevi al primo canale di Marco Liguri per essere sempre aggiornati sugli eventi sismici. Attivate la campanella per essere aggiornati in tempo reale. Io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale. Condividete questo video. Ciao a tutti.